ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rock politics ospite di questa puntata è un giovane ragazzo come me un mio coentaneo consigliere a dagli è io e pia francesco ci siamo conosciuti avendo una discussione purtroppo su facebook e ho deciso di ho chiesto se voleva venire nella mia puntata perché sincero mi sono rotto un po le scatole di invitare sempre politici che tanto promettono e nulla fanno quindi in questa puntata voglio dare la possibilità a un ragazzo giovane della mia età di poter dire i suoi progetti la sua idea di politica soprattutto la nostra zona e in canavese quindi pia francesco ciao grazie per per l'invito ecco la prima domanda che vorrei farti è come mai ti sei avvicinato al mondo della politica mi sono avvicinato alla politica nel durante il mio primo anno al politecnico di torino studio di ingegneria informatica per caso mai e poi mai avrei pensato di fare qualcosa di simile nel senso non l'avevo mai neanche diciamo non c'era semplicemente mai pensato avevo 19 anni e fino a un bel momento il sindaco mi chiama e mi chiede di voler di volermi avere nella sua squadra per le le future elezioni quelle che sono state nel nel 2019 un pelo titubante di questa nuova nuova avventura ha comunque accettato con piacere perché ecco agli è il paese in cui io sono nato e cresciuto per cui mi fa estremamente piacere fare qualcosa che vada in piccola parte a migliorare si spera la vita delle altre persone di qualcun altro ecco come sta andando queste questa esperienza fino ad adesso cosa hai imparato facendo il consigliere ad agli è molto bene molto bene ci si diverte molto ovviamente il covid come tutte le cose ha schiacciato il frame in un modo molto importante sugli eventi sulle programmazioni che avevamo quindi abbiamo dovuto come tutti quanti adattarci però è un ambiente molto molto forse non creativo per un ambiente dove si può imparare molto si hanno rapporti con dipendenti uffici cittadini aziende perché poi io mi dedico della parte innovazione sviluppo tecnologico e quindi per forza di cosa dei rapporti con delle aziende relativamente ciò di cui mi occupo e quindi ecco si hanno un sacco di rapporti con più figure diverse che sono una grossa fonte di ispirazione di apprendimento con tu al politecnico cosa studi io studio ingegneria informatica in inglese al politecnico e riesci a coniugare le due cose riuscire a studiare anche occuparti della comunità cioè è facile ci sono sforzi ci sono sacrifici sicuramente c'è qualcosa dietro beh sì sì il politecnico di per sé è molto diciamo opprimente però comunque io la vedo come diciamo la il mio rapporto in comune una valvola di sfogo diciamo io usualmente vado in comune il sabato mattina poi se c'è qualcos'altro da fare lungo la settimana vado anche eventualmente quella volta libera e qui la vedo proprio come un l'inizio del mio weekend arrivare in comune vedere appunto cosa cosa stiamo cosa c'è da fare delle cose da finire eccetera iniziano i progetti trovarsi con le persone parlare di cosa è stato fatto e vedere cosa fare di nuovo ecco io anche io studio studio torino è noto proprio una differenza totale tra lo sviluppo che abbiamo una città come torino è uno sviluppo che abbiamo una città come cannavese ecco secondo te cosa si può implementare in cannavese che c'è già torino soprattutto perché tu studi un settore studi in un settore in cui appunto il futuro l'innovazione è la cosa principale è qua che è una zona in cui probabilmente siamo rimasti un po indietro a livello tecnologico cos'è che manca rispetto a torino allora piccoli comuni per forza di cose abbiamo imparato con gli anni la tecnologia arriva sempre un momento dopo basti vedere la copertura telefonica connessioni ad alta velocità tipo fibra ottica eccetera arrivano dopo però d'altro canto piccoli comuni faccio l'esempio di agli è laddove c'è la volontà di volersi evolvere voler diciamo progredire innovare c'è la possibilità di farlo e in maniera più semplice naturalmente che che un comune grosso come può essere ivrea torino no per fare un esempio ci va di un progetto che ora sto portando avanti di permettere ai cittadini di fare l'accesso online tramite speed per fare più azioni lo vediamo lo decidiamo che lo facciamo in grosse città naturalmente dove ci sono una moltitudine di figure persone tutto più complesso da quel punto di vista quindi sì siamo forse un pelo tutti i piccoli comuni penalizzati sull'accesso di servizio accesso alle tecnologie accesso alle infrastrutture però laddove diciamo non siamo dipendenti da qualcun altro quindi per esempio l'esempio di speed per l'accesso di servizio online ci va di farlo lo studiamo il progetto lo possiamo fare in autonomia e arrivare forse in alcune parti prima di città o comuni più grandi di noi prima tu parlavamo e mi è accennato una cosa che poi ne parlerete meglio a livello comunale a settembre detto avete studiato una cosa che mi ha affascinato molto un'aula di videoconferenza ibrida ecco ci vuoi spiegare questo progetto come è nato visto che è stata una tua idea allora sì in comune al secondo piano aveva una stanza peraltro l'unica con un affresco all'interno del comune che veniva usata da ex sala riunioni poi col tempo con il covid che appunto va bloccato le riunioni in presenza era diventato un po un mini deposito era bellissima sta stanza una volta molto bello ho detto non è possibile che questa stanza debba essere un un deposito così questo già l'anno scorso così al inizio dell'anno dopo dopo il 2021 ho deciso di provare a capire la fattibilità di una di una sala ibrida di videoconferenze e finalmente dopo dopo qualche mese perché appunto è stato un progetto abbastanza complesso perché si è dovuto ristrutturare acquisire pezzi nuovi eccetera è finita e questo ci permetterà di usufruire di quindi riunioni sia in presenza che ibride è una sala riunioni normali quindi anche per le riunioni normali diciamo senza quindi la parte di videoconferenza abbiamo dato vita a una stanza che prima non lo aveva sono molto diciamo felice di essere riuscito a ravvivare una una parte di di stabile che prima era rimasto un attimino più più abbandonata ecco tipo nei comuni spesso capita che i giovani vengono un po isolati vengono un po diciamo non ascoltati per diciamo diffidenza verso le nuove generazioni tutto a te è capitato di essere isolato o incluso al 100 per cento dall'amministrazione di Aglie dal sindaco allora no dall'amministrazione di Aglie naturalmente sono stato ben accolto incluso noi non facciamo sostanzialmente nessuna discriminazione in base all'età delle persone o la loro provenienza o il loro lavoro cioè se se c'è una tematica relativamente esempio un'asfaltatura ok che io non è affatto il mio il mio compito né me ne intendo comunque voglio dire se dovessimo fare un parere su questo verrei ovviamente ascoltato tutti siamo ascoltati ci ascoltiamo tra di noi si dialoga si ci si confronta e si cerca sempre di avere una alla decisione migliore noi proprio non abbiamo questa in questo mandato amministrativo una minoranza dagli è questo può essere da una parte una persona può dire che bello facciamo cosa vogliamo in realtà no perché è molto più complicato di così perché appunto non è impensabile fare 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 cosa vuole un comune e per via del fatto che abbiamo minoranza ci sottoponiamo noi a una fortissima autocritica però quindi ogni decisione che prendiamo ogni comunicato che facciamo uscire lo rileggiamo mille volte e pensiamo alle più strambe angolazioni di lettura e che si possono avere appunto nel nel tentativo di fare le cose al meglio possibile nei confronti di tutti cioè la minoranza della parte da soli in poche parole fondamentalmente cerchiamo di fare quanto più possibile sì ecco parlavamo in questi giorni di molti progetti e te insieme che tu avevi in mente di applicare a dagli e che ho intenzione tuo sogno ecco mi piacerebbe in questa ultima parte intervista chiederti di spiegare appunto questi progetti che io ritengo molto interessanti e soprattutto io non ho una cultura una preparazione istruzione scientifica importante perché una preparazione più umanistica rispetto alla tua quindi ti ascolto molto molto volentieri e primo di tutti quello che mi ha colpito molto è il progetto smart city ecco se se ci vuoi spiegare perché ho letto mi ha accennato che si parla di serrature elettroniche di impianti molto meno invasivi a livello di consumi ecco se ci vuoi spiegare meglio sì allora la smart city è una tematica molto ampia molto interessante che a me fondamentalmente interessa anche molto dal punto di vista personale è importante oggi più che mai fare attenzione all'ambiente a ciò che ci sta attorno quindi a come usiamo le risorse che abbiamo e quindi io penso che sia di fondamentale importanza e del mio impegno nei prossimi mesi cercare di capire come convertire l'impianto di illuminazione dalle lampade alogen e le lampade led per quindi andare a consumare meno energia rendere l'impianto più efficiente per esempio un altro esempio nel nel salone comunale franco paglia abbiamo implementato l'anno scorso una serratura elettronica questo ci consente quindi un un monitoraggio molto più fine per quegli incidenti che sono capitati molto molto di rado ma dove magari c'era qualche incomprensione tra le varie parti che in certi eventi entravano e quindi in questa maniera è molto più calmierato l'ingresso e possiamo dare moto aggiungere badge matrimoni o eventi di questo tipo se no anche sembra relativamente una città connessa da un anno ormai abbiamo operativo l'impianto di open fiber che porta fibra ottica ftth a un gigabit all'abitazione delle persone purtroppo non è coperto il 100 per cento del del paese perché essendo un piccolo comune l'impianto era sovvenzionato da infratellitalia attraverso società terze e che quindi il bando di infratell non prevedeva la copertura totale con impianto gigabit ma comunque sono mi tengo sempre in contatto con infratell perché talvolta c'è la possibilità di fare dei piani integrativi naturalmente il mio scopo è coprire al cento per cento il paese con cognitività fibra che oggi è più importante che mai averla oggi diciamo in questo mondo molto più virtuale molto più dinamico molto più interconnesso è importantissimo che tutte le persone tutte le famiglie abbiano una connessione internet valida soprattutto che ho notato durante durante il covil un'altra cosa che mi ha affascinato molto è io urban se presente si occupa dei servizi online nel senso spesso i cittadini si lamentano di una burocrazia troppo forte di il fatto di trovarsi e andare di persona nei comuni per sbrigare pratiche sbrigare pratiche burocratiche e questo risulta un problema soprattutto in un periodo come come adesso in cui il covid ci ha molto tamponati da quel punto di vista e molte cose sono rimaste indietro quindi io urban è un progetto che si occupa di diciamo velocizzare questo passaggio allora sì è sempre appunto tra i miei obiettivi lo stiamo attuando in questi mesi e ne spero appena possibile di poterlo diciamo rendere pubblico adesso ancora diciamo un work in progress si tratta dello sportello del cittadino e del portale del contribuente che sono due portali online che permettono l'accesso tramite speed o cie che è l'unico metodo di login riconosciuto oggi per legge che permettono quindi di fare tante azioni che che il cittadino normalmente fa da casa questo a mio avviso è una è una rivoluzione nel senso che ha il doppio vantaggio vantaggio per i cittadini e vantaggio per il comune perché su questi portali si possono fare dalla autocertificazioni di diverso tipo acquistare non lo so per esempio i boni mensa a pagare latari o comunque avere dei rapporti col comune ed è comodo perché il cittadino può fare ciò che vuole allora che vuole e il il comune banalmente risparmio molto tempo nel non dover aprire diciamo dare stare dietro al cittadino e questo non lo dico perché non voglio che i cittadini vengono in comune anzi sono ben felice dopo due anni che non vedo più nessuno che che vengano di nuovo in comune ma che comunque come tutti i lavori qualora il dipendente non debba passare tanto tempo nel fare un'azione ripetitiva e monotona si sente più motivato e quindi la produttività aumenta a me fa fa molto piacere quando magari un dipendente mi mi chiama mi dice ho beccato questo bando a cui possiamo partecipare per poter ristrutturare un'area del paese che prima era non tanto bella così secondo me si tratta semplicemente di ottimizzare il tempo naturalmente per chi non è per chi ha degli eventuali problemi nel con speed con tutto questo mondo online naturalmente il comune sempre aperto per per chi volesse fare le cose possiamo dire alla vecchia maniera no però comunque è un modo in più ecco è un modo in più che ti permette con estrema facilità di di fare delle delle azioni diciamo ripetitive che può essere quella di stampare un'autodichiarazione comprare un buono mensa pagare una tassa verificare che le tasse siano state pagate effettivamente questi portali sono comodi perché si interfacciano anche con Pago.pa che è la nuova tecnologia di intrascambio per i pagamenti con le pubbliche amministrazioni e quindi tutte le tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni hanno un codice di univoco e quindi ti permette anche di non pagare le due volte che a volte succede che per disattenzione magari si tratta di piccoli importi pensi magari che la transazione non sia andata a buon fine la rifai e scopri che hai pagato due volte questo anche per noi diventa poi molto complesso poi andare a capire quei soldi dove sono andati a finire di ridargli eccetera invece con questa con questi sistemi tutto è diciamo più più interconnesso il mondo online si interfaccia con i software interni che abbiamo in comune non è possibile pagare due volte le cose perché vengono verificate le richieste che vengono fatte online sulla base dei dati vengono autenticate con i dati presenti nella nostra banca dati e quindi si tratta appunto di una di una doppia vincita sia per le persone che possono fare ciò che vogliono e loro che vogliono sia per il comune che quindi ha l'opportunità di potersi talvolta smarcare da dell'attività per potersi concentrare su come migliorare il comune in sé ecco quindi snellire la burocrazia è sicuramente una delle cose più importanti ovviamente c'è ancora un blocco generazionale ai giorni d'oggi ed è difficile implementare subito però bisogna partire prima possibile per permettere poi alle prossime generazioni se non partiamo non arriveremo esatto ritrovarci già con un sistema consolidato poi è un'altra cosa un altro progetto che mi interessato però comunque questo qua trovo già un po più di difficile realizzazione anche se si discute molto anche a livello nazionale di questo di questa tematica che TV CC si tratta di un impianto di video sorveglianza che ha lo studio attualmente a선ere noi non abbiamo un vero e proprio grosso impianto di video sorveglianza ne abbiamo uno abbastanza contenuto però per la sicurezza dei cittadini E' il nostro obiettivo nei prossimi mesi e anni, perché è comunque una cosa un po' lunga, ecco, realizzarne uno più completo che possa andare appunto talvolta negli anni pastati, nel senso dei periodi in cui avevamo alcuni furti, eventualmente applicare quindi un sistema con la lettura targhe agli ingressi usciti del paese, non so, queste cose atte al fine di andare a salvaguardare la sicurezza della popolazione, ecco, tutto lì. Sì, è una tematica diciamo molto delicata, soprattutto perché a livello nazionale si è parlato spesso di questo, soprattutto facendo riferimento magari a paesi come Cina, che sono molto più all'avanguardia rispetto a questo, ci sono stati molti servizi anche di inchiesta, e quindi molte persone, molti cittadini sono un po' scettici su questo, però sicuramente stiamo andando verso una direzione che è questa, cioè nel senso usare la tecnologia per cercare di diminuire criminalità, cercare di controllare, di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, sicuramente ci sarà un dibattito molto forte, secondo me, anche in futuro. Sì, 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 senza dubbio, è una tematica delicata, va a toccare la privacy delle persone, noi per legge in comune, solo due persone possono accedere ai filmati delle videoregistrazioni, tutti gli accessi sono controllati, annotati, e naturalmente gli eventuali filmati in uscita che escono da quell'impianto vanno solamente i carabinieri o le autorità di riferimento, quindi ecco, il nostro obiettivo è puramente mantenere un alto livello di sicurezza nel paese, purtroppo furti accadono, momenti in cui magari troviamo delle persone che si lamentano perché gli è stata rigata l'auto, imbrotto il vetro, accadono, quindi ecco, noi stiamo cercando di migliorare il nostro piccolo impianto che già abbiamo, al fine di... che comunque, peraltro, ci sono stati delle occasioni in cui è stato, diciamo, molto utile averlo, e noi vogliamo semplicemente ampliarlo per fare in modo che la sicurezza sia espansa a un'area più elevata del paese. Mi piacerebbe sapere anche quali sono i tuoi obiettivi, magari anche nelle prossime lezioni, cioè vorrei stare comunque, usare la tua formazione scolastica per stare qua, e cercare di migliorare il tuo territorio, vuoi andare agli altri obiettivi, vuoi lavorare in aziende, vuoi lavorare a Torino, vuoi espanderti, andare all'estero, cioè mi piaceva capire molto cosa hai in mente, cosa vorresti fare nel tuo futuro. Chi lo sa, chi lo sa, e ora io appunto sto studiando, adoro viaggiare, viaggerei, questa pausa Covid mi ha ucciso, non poter andare, non poter viaggiare, e quindi io lascio tutte le porte aperte, ecco, all'Italia, all'estero, alla politica, a tutto. Chi vivrà, vedrà. Vi faccio l'ultima domanda, è la prima cosa che cambieresti nel nostro territorio? La prima cosa che cambieresti nel nostro territorio? Eh beh. Cosa manca secondo te rispetto magari all'estero, rispetto a città come Torino, città come Milano? Una cosa che manca per fare il salto di qualità, che vedo moltissimo all'estero, ma anche nelle grandi città, è la cultura del pagamento contactless, del pagamento digitale. Nei nostri paesi, parlo agli eri, varolo, circondariato, c'è, ma è agli albori. Naturalmente capita di andare nei negozi, volere pagare con la carta, e non funziona il post, non è possibile pagare con la carta, e quindi mi piacerebbe molto vedere che anche qui c'è questa cultura diffusa, anche se comunque riconosco che appunto questo mio desiderio è di voler vedere il pagamento diffuso, ma tengo anche presente che in Italia i costi per i pagamenti digitali sono sommativamente un pochino elevati e sono sempre a carico degli esercenti. Quindi capisco anche chi ancora è un po' restio all'utilizzo e sarebbe cosa buona e giusta che comunque, come in altri paesi del mondo, venga calmirato la commissione che viene richiesta agli esercenti per poter accettare pagamenti digitali per i quali sono obbligati ad accettare, quindi. Ok, per Francesco ti ringrazio per essere, e ci vediamo alla prossima puntata, magari in futuro, e grazie ancora. Con piacere. Ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik.